Dimmi che cosa vuoi! Hai dei messaggi? Come della dottoressa Miller? Che vuole cambiare il vostro giorno di terapia? Si dovrà preparare al meglio. Cazzo se ti servirà. Ce n'è uno del preside della scuola Wesley Hawks. Rachel, grazie del make-up per la produzione di The Music Man. Kyle è stato bravissimo. Si chiama così tuo figlio. È lì che va a scuola. No, aspetta. Kyle è figlio della mia amica. Mio figlio non va alla West York. Rachel, sto scorrendo le foto che hai sul telefono. Non fare la stupida, dai. Non toccare il mio Kyle!